Attenzione, dal 6 agrile 2013, per la realizzazione della nuova gatteria commerciale, cambia l'accessibilità dei finali dal 19 al 29 nella stazione di Roma Termini. Il paese è andato a aprire le porte esterne del treno, il saluto scendere quando non sono completamente fermi. Atenzione, dal 6 agrile 2013, per la realizzazione della nuova gatteria commerciale, a sechen un'autosità di fornire il primokmale, a sensibilità del buocchio per i Pokemon, da 19 al 29 inizia. A presto, esercizio, la nuova gatteria commerciale, e sicuro scendere. A presto, esercizio. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti